E' finito 7-0 per il Pescara, il test amichevole a Silvi contro il Castrum. Il Pescara nel primo tempo ci ha messo un po' a sbloccare il risultato ed è servito un autogol al 37esimo minuto, poi il raddoppio di De Marco e sul finire del primo tempo il destro sotto l'incrocio di Meazzi. Nella ripresa torna in campo dopo tanto tempo Davide Merola, ci mette poco per segnare una doppietta. Dentro anche il Baby classe 2009 Arena, anche per l'Italo-Australiano è arrivata una doppietta. Prima della partita ha parlato ai nostri microfoni Lorenzo Meazzi. Sono contento, peccato per il sbagliato, però l'importante era portare a casa i tre punti e la vittoria. Cangiano ti fa un bel colpo di tacco, lì che cosa è successo? Volevi calciare col destro, non te la sei sentita di calciare col sinistro? Ho perso l'attimo, volevo calciare col destro di punta, però non mi sono manco accorto che arrivasse l'avversario, per cui è stato peccato poi rivedendola, sicuramente avrei dovuto tirare col sinistro subito. Però sei entrato e hai spaccato la partita? Sono contento di questo, il mio obiettivo è poi dare una mano alla squadra, per cui sono contento di avercela fatta. Un po' è stata una partita simile alla tua prima in maglia biancazzurra, quando la cambiasti proprio nel derby con il Pineto? Sicuramente è stata una partita difficile nel primo tempo, perché credo che comunque Rimini sia una buona squadra, aveva bisogno di punti, per cui sono contento anche, è stato un buon secondo tempo da pari di tutta la squadra. Parliamo un po' di Lorenzo Meazzi, se ti dovessi chiedere a chi si ispira dei grandi calciatori Meazzi, cosa mi rispondi? Sia da bambino sia oggi? Sicuramente di comessi, però comunque anche, se devo dire uno con cui ho giocato, anche Ramirez, sicuramente per me è stato un privilegio vedere da vicino, imparare qualcosa. Avete messo in difficoltà proprio tu e Ramirez il Pescara in quei playoff? Sì, sì, è stata una bella partita. Poi? Eh, poi peccato non aver passato il turno, però è stata una bellissima emozione giocare quella partita. Ci sono adesso due partite consecutive, tra l'altro il calendario dice di lunedì in casa e poi l'infrasettimanale a casa tua. Ci stai già pensando? No, no, stiamo pensando partita per partita e sinceramente non ci ho ancora pensato alla partita. Però prima in classifica in te e la seconda Pescara? Eh, sì, sì, sicuramente loro sono partiti molto bene e poi è anche noi peccato per quel gol preso alla fine con la Torres, però penso sia stata una buona partenza sia da parte nostra che da parte loro. Ti chiedo le ultime due cose, Lorenzo. La prima sul tuo ruolo, sei stato impiegato da Baldini come esterno, potrei fare la mezzala, sei più un trequartista, che ci dici? Sono un giocatore offensivo, per cui penso che posso giocare sia da mezzala che esterno. Poi ho fatto il trequartista per gli ultimi nove anni, per cui sono quel tipo di giocatore lì. Pianese, e chiudiamo. Pianese è sicuramente una squadra forte, una squadra che è partita bene e sicuramente sarà una parola molto difficile.